Che sta succedendo lì? Allora, signore. Da qui, tre. Vi pregherei di essere meno rimbambite, grazie. Allora, tre e quattro. Com'è? Bravi, bravi. Può entro io? When the moon... Allora, si facciamo sempre da na 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 na, ok? One, two, three, and four. Allora, si facciamo sempre da na 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 La vostra, ve la ricordate? Costanza svegliati, svegliati, svegliati. E poi dovete essere più contenti. Per colpa loro la dobbiamo rifare un'ultima volta e poi andiamo alla fine. Allora, ve la ricordate? Te la ricordi? Sì, ma ora la facciamo da prima. 3 e 4. Non correte! Non correte! Non correte! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Looking for Madonna! Looking for Madonna! Looking for... Fiato!